E oggi abbiamo l'occasione di parlare di un'attività, di un servizio importante per tutti quelli che studiano, insomma, se siete studenti, se studiate o se siete magari anche genitori di ragazzi e ragazze che studiano, aprite bene le orecchie. Con me c'è Mirko Giarruso da Repeat Me, a cui do il benvenuto. Ciao Mirko, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, Repeat Me, lo introduciamo per chi di voi non la conoscesse, è una realtà educativa, fondamentalmente, che permette a chi studia di ricevere lezioni private e supporto allo studio a prezzi accessibili, ma che permette anche, dico bene, correggimi Mirko se sbaglio, di recuperare anni scolastici, vero? Corretto, esatto, esattamente. C'è la possibilità di frequentare e recuperare gli anni scolastici persi. E in che modo? Come funziona questa cosa? Allora, abbiamo dei metodi abbastanza alternativi rispetto ai classici metodi di recupero, nel senso che i ragazzi vengono a seguire le lezioni da noi al mattino e possono iscriversi ai vari corsi che gli permettono di frequentare e studiare le materie per l'esame. E in più possono iscriversi a tutti gli altri corsi di loro interesse. E a maggio c'è un esame su tutti gli argomenti del loro corso. Superato l'esame, recuperano gli anni. Sono classi molto piccole, quindi il rapporto con il docente è molto stretto e quindi si perde la classica lezione frontale. Ho capito, quindi insomma c'è un'attenzione diversa proprio grazie anche al numero, alla vicinanza insomma di chi insegna. Quindi lo fate in maniera un po' diversa rispetto a come viene condotto solitamente? Esattamente, sì sì. Sono davvero metodi innovativi, nel senso che non si affronta la lezione in maniera frontale, ma addirittura si è anche tutto intorno a un tavolo con l'insegnante e si affrontano i dubbi, i problemi insieme all'insegnante. E questo ha permesso insomma a molte persone finora di recuperare proprio gli anni in questa maniera, in maniera più agevole? Sì, perché a volte gli insegnanti e i ragazzi non si trovano nella classe perché c'è troppi ragazzi, troppi studenti e non riescono a seguire la lezione. Quindi non riescono a seguire il pubblico, vengono da noi e riescono a seguire le lezioni molto più agevolmente e quindi poi fanno un successo. E questo successo gli dà anche la possibilità di andare avanti e avere un po' di autostima. Che insomma è fondamentale per ogni passo della nostra vita. Dove possiamo trovarvi per avere ulteriori informazioni o iscrizioni? Allora, ci trovate a Varese, in Amorosini 13, a Como, in Diamantana 20 e a Bustratizio, in Giavassi 16. Perfetto, io ti ringrazio per ora, ricordo repeatme.it per avere ulteriori dettagli attraverso il web. Grazie a Mirko Gianruso di Repeat Me, vi ricordo che da domani potrete riascoltare questo speciale nella sezione podcast di radiomillennium.it. A presto! Grazie a voi, a presto!